Musica Insieme a noi abbiamo il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la decisione di far venire la festa dei Ludalfin, Luvernada, a Saluzzo è stata una decisione che penso voglia premiare anche un territorio molto attento a questa realtà più che la stessa cittadina di Saluzzo. Come è iniziata tutta la vicenda? Come sono iniziati i primi approcci per organizzare questa festa? E poi come è proseguito? Ma è in corso un progetto di valorizzazione delle terre del Monviso e Valliocitane in sostanza l'area del vecchio Marchesato di Saluzzo, dell'antico Marchesato di Saluzzo. Su questo perimetro stiamo cercando di lavorare per promuovere sia l'ambiente, il territorio attraverso il Parco del Monviso e il riconoscimento della biosfera dell'UNESCO e naturalmente bisogna valorizzarne anche la cultura. La cultura prevalente è certamente la cultura occitana. Alla corte dei Marchesi di Saluzzo i trovatori venivano a cantare le loro storie durante il Medioevo e poi da qui si muovevano in tutta l'Occitania verso le altre corti importanti del Sud Europa. Gli approcci con Berardo e il suo gruppo di amici come sono avvenuti? Con Berardo ci si conosce da anni, ci si è frequentato, ci sono state altre occasioni in cui si è esibito a Saluzzo, anche presso la scuola di alto perfezionamento musicale della nostra città ha tenuto dei corsi. È avvenuto un incontro in cui noi abbiamo illustrato il nostro progetto di promozione turistica e loro hanno manifestato la volontà di trovare uno spazio in cui potersi esibire che fosse più ampio di quello in cui tradizionalmente veniva la loro festa. Abbiamo visto questo splendido foro boario che nel tempo è stato trasformato in uno spazio pulifunzionale e ci siamo trovati d'accordo nell'immaginare qui la festa dei Ludelfi. È la prima volta che Saluzzo si avvicina così tanto alla musica occitana è la prima di tante o in passaggio ci sono stati già altri esempi? No, questo è il massimo di quello che può esprimere la musica occitana nella provincia di Cuneo, quindi è imparagonabile a tutto ciò che è avvenuto prima però come ricordavo ci sono state diverse occasioni, ci sono molte esibizioni di Sergio, del suo gruppo ma anche di altri, già in giugno durante la festa nazionale dei borghi autentici d'Italia abbiamo idealmente fatto gemellare la musica occitana con la pizzica salentina, poi nel corso degli anni innumerevoli sono state le occasioni di incontro tra la città di Saluzzo e questo tipo di musica tradizionale. E il festival Occitamo ha accompagnato questa festa dell'Uvernada quindi avete coniugato queste due iniziative in questo periodo? Il tentativo è stato quello di assemblare tutto ciò che c'era sul territorio connesso alla musica, alla danza e alle tradizioni occitane è venuto fuori un calendario piuttosto fitto che ci soddisfa come prima edizione naturalmente poi dovremmo trovare in futuro una maggiore omogeneità dal punto di vista artistico e anche una mission culturale che oggi non è ancora così definita. Sicuramente l'Uvernada è la degna conclusione di una cavalcata che è partita da giugno e è arrivata attraverso i mesi estivi fino ad oggi. E un'ultima domanda sui finanziamenti che vengono fatti per le lingue minoritarie e Saluzzo li usa, come ne usufruisce se ne ha possibilità? No, 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 ma la città di Saluzzo non deve entrare in competizione con le terre alte e con le associazioni culturali che da anni lavorano sul tema delle lingue minoritarie. Noi siamo storicamente, perché la tradizione vuole la storia del Marchesato la capitale di un territorio pedemontano e montano e stiamo semplicemente esercitando quel ruolo proprio in chiave di promozione del territorio complessivamente inteso ma non vogliamo assolutamente metterci in competizione vogliamo essere al servizio, niente affatto in competizione con le comunità che risiedono nelle terre alte. Quindi l'idea è quella di collaborare, di collaborare tutti insieme costruendo un distretto che ha certamente delle grandi potenzialità turistiche e che quindi deve esprimere tutte le sue bellezze dal punto di vista storico, dal punto di vista paesaggistico e ovviamente dal punto di vista culturale. In questo la tradizione citana, la dimensione citana va certamente rappresentata perché è la più ricca. Grazie mille, buon lavoro! Grazie a voi, a presto! Grazie a voi, a presto!